E adesso la notizia che riguarda donna Massimiliano De Simone trovato ferito in un bosco vicino a Navelli da un colpo di pistola. Adesso è stato portato all'ospedale di Teramo dove si trova in prognosi riservata. Una dinamica ancora tutta da chiarire. Trovate la notizia ampiamente trattata sul nostro sito. Il bosco dove è stato ritrovato è poco distante dal centro abitato di Navelli. L'ex parroco 52enne era molto noto in paese. Sembra che fosse solito andare a passeggio in quel bosco. E forse potrebbe essere stato lui stesso ad avvertire i familiari che poi hanno chiamato il 118. Non è ancora chiaro se l'arma fosse proprio di don Massimiliano o meno. Probabilmente era regolarmente dichiarata. A 40 anni don Massimiliano De Simone era cappellano del carcere dell'Aquila. E in quel periodo per circa otto mesi, fra il 2008 e il 2009, ebbe colloqui frequenti con Gaspare Spatuzza, il collaboratore di giustizia che ha contribuito a far riscrivere la storia delle stragi di mafia e smascherato i depistaggi sull'omicidio di Paolo Borsellino. Secondo don Massimiliano, come raccontò in una intervista al quotidiano La Stampa, la conversione di Spatuzza era autentica. Don Massimiliano disse, sono un prete, non mi interessa il lato politico giudiziario o le possibili strumentalizzazioni, ma Dio se vuole può toccare il cuore anche del delinquente più incallito. Attualmente don Massimiliano De Simone era in quiescenza per motivi di salute. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori chiarimenti su questa vicenda.